ciao sono concetta di giacomo del centro anziani squirino abbiamo avuto questa riunione con mondo digitale che risultata molto interessante ci è piaciuto tantissimo già avevamo fatto un corso con mauro ed era stato bellissimo e adesso abbiamo ampliato la conoscenza del telefono tutte le applicazioni del telefono le varie cose che si possono fare col telefono e prima non non li conoscevamo